Musiamo le signor Fionnino di Stabilo, completando il primo dei quundici geni siamo al primo cambio e le palla cambiare per prima. Musiamo le signor Fionnino di Stabilo, Musiamo le signor Fionnino di Stabilo, Futur la serie più spi che togiu bien forse, rier cui si chiudere, Argentina è squalificata per il cambio irregolare, Argentina è squalificata per il cambio irregolare, ci stiamo portando verso la metà gara, Gorova in Italia, Germania e Olanda, Corolla che chiude il gruppo degli atleti, prossimo passaggio 8 giuri al termine, e quindi l'ultima volta al finale e comunque l'unico palma posto a posto ancora tra le due nazioni siamo ora al campione almeno 7 Colombia, Italia, Corea 2 problemi nazioni per la regione martini di vantaggio sulla Germania e sulla Olanda Siamo a meno 6 6 l'article E questo è il primo aiutato a riportarsi in prima posizione Italia, Corea, Colombia, Germania, Olanda Entriamo negli ultimi 5 giri Siamo a cambio Di meno 5 Italia a cambiare per prima Corea, Germania, Colombia Ancora l'Italia La giornata che si è portata di più a spalla La prima Spero si sta riportando Nella prima posizione Nero 4 Volo rapido Germania, Italia, Italia, Corea, Olanda Ancora brutto e compatto Ci si sa che tutto Ora il titolo mondiale Nella specialità Ultimi 3 giri Amperi due, adelante, campagna per l'ultimo giro, ultima volta, Colombia, Italia, la Colombia di avere la testa, squalificata la Corea, la Corea è stata squalificata la Corea, come abbiamo anche, la Corea, la Italia, la Corea è stata squalificata per il cambio in regolare. Grazie. Grazie.